ci ho riflettuto parecchio a fare questo video vi dico la verità perché non vorrei passare per il moralizzatore il perbenista eccetera perché non è vero un cavolo non sono così io sono un uomo comune faccio i miei errori come a tutti eccetera vabbè ma ho deciso comunque di farlo perché non se ne parla abbastanza e molte cose si danno per scontato quando lo so non lo sono e e voglio dare il mio 5 sense come dicono gli americani in merito al cheating ho rivisto ultimamente il video che ha fatto giardie in merito ai cheaters presenti su asset corsa competizione e oggi lo faccio lo faccio anch'io in merito ai cheater che sono su assetto corsa ma non sono qua per battagliare su come si può migliorare come si può fare perché secondo me se tu nasci in broglione o con questa indole come si dice da noi chi nasce tondo non può morire quadrato si possono levigare un po gli angoli ma non di più è successo un fatto increscioso che mi dispiace di più per umberto che è lui che organizza e per toni che si dà da fare per cercare di dargli la mano e soprattutto per tutte le persone oneste e per fortuna sono tantissime che hanno girato sul server di umberto in questi ultimi giorni il fatto increscioso è che molto semplicemente dopo segnalazione del primo time trial sempre organizzato dal buon umberto noto qualcuno ci ha suggerito di bloccare i setup perché diciamo che il setup aperto a parte dare vantaggi a chi conosce capisce di setup potrebbe dare l'opportunità di aprire certe porte di trucchi cheat io onestamente sul momento ma dai veramente ora stiamo parlando di però umberto dice guarda mi ha messo la pulce all'orecchio il prossimo diamo ascolto e chiudiamo il setup quindi setup bloccato ed è quello che è successo che attualmente in questo momento una combo bellissima con una formula 2 rss su imola molto difficile però appassionante eccetera e inizio ad arrivare i primi tempi e a un certo punto arrivano dei tempi molto interessanti molto interessanti in particolare da due soggetti e io non ho avuto sospetti perché io di natura mia sono un po naif e credulone dico vabbè se riesci a farlo bravo ti batto le mani ti stringo giù di cappello io se mi devo mettere in cinquantesima posizione mi metto in cinquantesima posizione però qualcuno ha detto andiamo a vedere un attimo e scopriamo che questi soggetti grazie a una falla che io conoscevo che non mi ricordavo perché assetto corsa non lo utilizzo da anni praticamente con il setup bloccato dove umberto aveva selezionato le gomme soft loro rientrando ai box e penso che molti di voi diranno è vero si è rientrando ai box si sono montati le super soft senza dire niente a nessuno e quindi hanno iniziato a fare giri su giri su giri che poi non è stato neanche tanto così efficace perché alla fine manco primi sono riusciti a posizionarsi però ragazzi hanno usato questo trucco è un barbatrucco di merda passatemi una sciocchezza però il gesto oltre al fatto che ti trae vantaggio il gesto è veramente vile non si fa cioè questo viene a nuocere a ledere quello che è l'essenza del sim racing basato sulla correttezza in pista l'onestà l'onore di dire cavolo ho vinto su 200 cristiani da solo con le mie capacità no devi andare lì a usare il trucchetto e fare fuori io so il trucchetto e quindi veramente ma cavolo ma come cacchio fai a guardarti in faccia c'è manchi di rispetto a tutti a tutti a chi mette i soldi anche se sono 4 lire non me ne frega niente a chi mette i soldi che si sbatte per fare il server punto primo perché tu non sei capace a farlo ok a parte che non sei manco capace di cambiare il nome sul server e mettere il tuo nome e cognome che così dovrebbe essere perché sennò nelle console si mettono i nomignoli peppino 89 ok nei su pc fare simulazione si mette nome e cognome e questo era pure da dire non solo questo ma anche di rispetto a chi mette i soldi chi si ammazza a fare i server a controllarli mentre lavora per il divertimento di noi tutti e oltretutto cammini e calpesti il tempo dedicato da tutte le persone che onestamente hanno cercato di fare un tempo ma come cacchio fai a guardarti in faccia anzi siete due come cacchio fate a guardarmi in faccia ma come vi permettete ad entrare in un server amatoriale dove non si vince nulla ma non è che ci sono 10.000 euro e dice almeno no giusto per dire io sono entrato ho vinto che poi che cosa vinci vedere il tuo nome è lì che non manco il tuo nome è ma che cacchio ma andatevi a giocare alle console andate su code che lì comprano proprio fanno gli abbonamenti per per le cheat addirittura ormai è diventato di uso comune io non ci gioco più perché se non ti abboni a vedere i tizi lì dove puoi sparare eccetera l'autoshoot come cazzo si chiama ma andate lì lasciate stare il sim racing lasciate stare il sim racing è altra cosa simulare è un'altra cosa io vorrei vederti a voi due su un time trial reale in pista che fai passi dai box e cambi le gomme ma vaffanculo va scusate c'è veramente io mi chiedo scusa chiedo scusa a tutti quelli e che io non c'entro nulla ma mi sento di chiedere scusa a tutti quelli che sono stati onesti a girare insieme ma cavolo io vedo toni perrone di sim racing underground di sim racing underground scusate e che rinuncia al mugello ad avere un vantaggio nei confronti nostri che siamo amici e tutti quelli che erano su disco condividendo con tutti il suo setup perché aveva trovato un buon setup una buona messa a punto per andare più veloce infatti si è pure fatto superare ma onestamente con dedizione di impegno riuscito poi arriva a passarci davanti ma questi sono gli esempi cioè io sono fiero di avere un amico come lui fortunato ad avere un amico non un furbone che passa è come quello che sono due ore che sto aspettando in fila la posta e mi passa il furbone scusa ne ho per cinque minuti dai ma come cavolo vogliamo andare avanti come paese ora non voglio fare grandi discorsi ma se già in queste cagate cerchiamo di metterle nel di dietro agli altri imbrogliando e vorrei aggiungere se tu trovi una falla un trucco un qualcosa lo segnali se sei onesto lo segnali ragazzi occhio lì si può tagliare lì si può passare dai box lo segnali si chiama onestà sì questo bisogna fare questo è il modo di comportarsi non la sfrutto e te la metto no è stato forse meglio fare la registrazione di questo video piuttosto che farlo live la morale state bene a casa non venite in quei server di umberto o nei server delle brave persone oneste che corrono per il gusto di correre per il gusto di potersi confrontare in modo onesto con delle persone altrettanto oneste non abbiamo di voi non abbiamo bisogno di voi nel sim racing andate a giocare a code grazie